A tutti bentrovati, dunque un aggiornamento meteo in formato flash questa sera per farvi notare il cedimento dell'alta pressione che sta già consentendo l'infiltrazione di aria umida in quota con queste balde nuvolose stratiforme che hanno invaso i cedi delle nostre regioni centrosettentrionali, non porteranno precipitazioni, mentre un secondo corpo nuvoloso in arrivo dal nord Europa diretto verso la regione balcanica riuscirà tra martedì e mercoledì a portare alcuni rovesci lungo le regioni adriate che anche su quelle centrali interne e quindi anche sull'Appennino e si accompagnerà anche ad un deciso calo delle temperature, un calo delle temperature che riporterà i valori entro la media del periodo ma solamente per 24 ore. Già da giovedì e probabilmente anche sino al weekend l'anticiclone tornerà a prendere possesso del continente e anche del Mediterraneo, il cielo tornerà sereno, il tempo soleggiato, le temperature torneranno a salire e si porteranno nuovamente al di sopra della media anche perché arriverà aria dal nord Africa che porterà un contributo caldo anche notevole soprattutto sulle nostre regioni merionali. Poi un cenno alla tendenza medio termine, la prossima settimana pare che l'alta pressione debba cedere definitivamente e lasciare il passo a correnti più umili che porteranno anche qualche nota di instabilità, potremo anche sperare in qualche benefica pioggia. Ne parleremo comunque nel prossimo video, vi aspetto mercoledì per i prossimi aggiornamenti. Un cordiale saluto e a risentirci da Luca Angelini.